Esame di maturità fallito, bocciati senza alcuna giustificazione. Il Gela perde pesantemente in Campania contro la Frattese, trasferta amarissima, un 5-2 che sarà difficilissimo da dimenticare. Batosta che porta con i piedi per terra la truppa di Infantino. In settimana si era detto che la trasferta nel Napoletano dopo il pari deludente conseguito al Prestigone alla Palmese avrebbe dovuto rappresentare la chiave di svolta. Così è stato, ma in senso negativo. Dispiace tantissimo per i tanti tifosi del Gela che hanno percorso chilometri su chilometri per vedere all'opera purtroppo una squadra irriconoscibile. Basti pensare che alla fine del primo tempo si era già sul 3-0 per i Campani e con tre gol subiti in appena sei minuti. Un naufragio. I biancazzurri, a dire il vero, erano partiti bene. Al trentesimo Chidichimo aveva timbrato la traversa, poi solo Frattese. Il primo gol è giunto al trentasesimo con Vacca. Dopo appena tre giri di orologio è arrivato il raddoppio. A siglarlo è stato Longo. Il Gela sparisce dal campo. Al quarantaduesimo il portiere Saitta commette un fallo in aria e calcio di rigore. Si incarica dalla battuta Longo. L'estremo difensore gelese respinge, ma arriva ancora Vacca che è in sacca. La truppa di Infantino si fa vedere dalle parti del portiere Rinaldi con Kosovan. Il guardia paricampano smanaccia in angolo. Nella ripresa si attende la reazione del Gela, ma è ancora la Frattese ad andare in gol. La marcatura è realizzata ancora una volta da Longo. 4-0. I giolesi cercano di addolcire la disfatta con un tiro di Bonaffini alzato sopra la traversa da Rinaldi. Al quattordicesimo arriva la manita campana. Longo realizza la sua personale tripletta. 5-0 e notte fonda per i biancazzurri. Mai nella storia del club gelese si ricorda un passivo così pesante. Il difensore centrale Gambuzza segna il gol della bandiera al 22esimo. Un minuto dopo è ancora la Frattese a farsi avanti, ma questa volta la conclusione finisce fuori. Nonostante i cinque gol subiti, Seitta evita il 6-1. A tre minuti dalla fine della gara, Capitano Bonaffini sigla il 2-5. Una sconfitta pesantissima. Adesso sarà compito di chi guida la squadra analizzare il problema e porre subito rimedio. Immediatamente non è affatto ammissibile che si perda in questo modo. Domenica prossima tra le muramiche e i biancazzurri ospiteranno la nuova capolista del campionato. Ripartiamo dalla Rende, giocando e lottando su ogni pallone. Cattivi agonisticamente parlando per tutti i 90 minuti, altrimenti sarà notte fonda.